25esima giornata del Gironia di Serie D, al battaglia va di scena Bustese-Prossesto. Bustese-Prossesto. Squadra all'Intervato sullo 0-0. La partita si decide nel secondo tempo, Rossesto in vantaggio al 15esimo con Di Renzo. Passata la mezz'ora, sempre lo stesso Di Renzo raddoppia. Passata la mezz'ora. Al battaglia, Rossesto batte Bustese 2-0.